Carla Maria Fornari, 31enne di Palagiano, era incensurata, mai avuto problemi diretti con la giustizia, ma doveva avere una particolare predilezione per unirsi a uomini di malaffare. Si sposa nel 2005 a 23 anni di età con Domenico Petruzzelli. Sapeva bene che il marito era il braccio destro di un noto pregiudicato, Domenico Attorre, trafficante in stupefacenti, e la donna aveva un certo timore, come confessò in corte d'assise nel corso del processo per l'omicidio del marito dove si era costituita parte civile. Omicidio del marito che era avvenuto nel maggio del 2011, quando la coppia aveva già avuto due figli ed un terzo, quello ucciso nell'agguato, era ancora in grembo alla madre. Petruzzelli e Attorre vennero uccisi, movente rivalità nella gestione del mercato degli stupefacenti. Tre persone vennero condannate all'ergastolo per questo duplice delitto. La Fornari dunque resta vedova e incinta. Di lì a poco nasce Domenico. Due anni e mezzo dopo, la donna inizia una relazione con Cosimo Orlando, ben sapendo che si trattava di un pregiudicato, condannato a 30 anni di reclusione per traffico di droga, ma da poco in semilibertà. La loro frequentazione dura poco più di tre mesi, fino alla strage delle ultime ore.